Sarà presentato sabato prossimo a Menfi il nuovo libro di salvo ogni bene dal titolo Il primo martire di mafia, l'eredità di padre Pino Puglisi. Si tratta del secondo volume del giovane avvocato menfitano dopo l'eucaristia mafiosa La voce dei preti. Sicuramente la produzione letteraria sulla storia di Don Pino Puglisi è stata tanta, è stata tantissima, però questo è un libro nuovo, questo è un libro che racconta il post, è un libro che racconta la sua eredità, quello che ci ha lasciato e come sono andate le cose dopo il 15 settembre del 1993. È la prima volta che queste cose vengono raccontate e l'ho fatto insieme a Rosaria Cascio che è stata allieva di Puglisi e amica e lo ha accompagnato nel suo percorso. Adesso ci sono delle testimonianze inedite e poi c'è anche una parte molto interessante che fa riflettere un po' sul ruolo della Chiesa, su quello che avrebbe potuto fare e su quello che potrebbe fare tutt'oggi in un territorio complicato ma bello e giusto come la Sicilia ma anche fuori. Che eredità ha lasciato Don Pino Puglisi? Beh, ci regala tanta bellezza, ci regala tanta speranza, ci regala la speranza di un futuro migliore e soprattutto ci ricorda che è importante vivere con costanza e con semplicità. Lui era una persona molto molto semplice che faceva il suo lavoro da prete in maniera straordinariamente normale e questa normalità dovrebbe accompagnarci di cui ci riguarda tutti e vale come esempio. Alla presentazione del libro sabato prossimo alle ore 19 al centro civico di Menfi prenderanno parte il procuratore della Repubblica di Agrigento Luigi Patronaggio e il cardinale Francesco Montenegro. Presenze importanti, autorevoli e che hanno voce in capitolo. Sì, infatti verrà il nostro arcivesco, il procuratore capo di Agrigento che ha seguito le indagini e condotto poi l'accusa durante il processo. Quindi è bello vedere come Chiesa e Stato e come Misericordia e Giustizia possono interfacciarsi e possono farlo in un territorio come il nostro. Credo sia un appuntamento importante per tutto il circondario.